Musica Amiche e amici di Rossini TV, bentornati al nostro format televisivo per comprendere la finanza realizzato da Banca Uidiba con noi. Questa è l'ultima puntata del 2023, abbiamo ospite Francesco Pesaro, buonasera Francesco. Buonasera Antonio. Consulente di Banca Uidiba, parleremo di un argomento interessantissimo che esattamente risponde alla parola pensione o ancora meglio previdenza. Il titolo proprio della serata è Pensione, iniziamo oggi per il nostro domani. E quindi ci rivolgiamo a Francesco chiedendogli ma perché c'è bisogno di parlare sempre di più di come affrontare la previdenza complementare? Per due motivi principalmente. Il primo è che avremo pensioni sempre più misere e il secondo è che andremo in pensione sempre più tardi. Non a caso un ultimo dato segnalatoci dall'Istat negli ultimi giorni che per chi ha 30 anni la pensione sarà non prima dei 70 anni di età compiuti. Con il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo infatti è cambiato proprio il paradigma del sistema pensionistico pubblico. Si è passato infatti da un calcolo basato sull'ultima retribuzione percepita ad un calcolo che invece considera i contributi effettivamente versati nel corso della vita del lavoratore. Negli ultimi decenni infatti i fenomeni come l'invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite, le crisi economiche, un mercato del lavoro sempre più frammentato hanno causato un vero e proprio squilibrio nel sistema pensionistico pubblico e a tal proposito poi le riforme che si sono susseguite nel corso del tempo a partire proprio dalla riforma Dini del 1995 hanno avuto l'obiettivo cardine di ripristinare i conti pubblici. E a rendere ancora più incerto questo quadro si aggiunge il fatto che il nostro sistema pensionistico pubblico si basa sul meccanismo della ripartizione. Cioè questo significa che le pensioni di oggi vengono pagate dai contributi dei lavoratori attuali. Ebbene finché questo equilibrio si regge in piedi perché le entrate sono uguali all'uscita e non c'è nessun tipo di problema, ma quando le entrate diminuiscono per una forza lavoro che diminuisce o viceversa le uscite aumentano a causa di un progressivo aumento del numero di pensionati e allora lì si instaurano i problemi. Bisogna ricorrere a soluzioni o appunto a riforme del sistema pensionistico volte a riequilibrare i conti pubblici. Francesco quindi le tue parole ci fanno capire perché ogni volta che si succedono i vari governi si cerchino dei correttivi per far sì di trovare il modo che questo equilibrio non si spezzi perché effettivamente la coperta è corta, lo dicevi giustamente anche prima fuori onda, è difficilissimo proprio mantenere questo equilibrio. E proprio in un quadro così incerto, così soggetto a cambiamenti, esistono delle stime vere e proprie sulle quali si potrebbe far conto per capire come saranno le pensioni future, la tua pensione Francesco? Assolutamente sì, c'è ad esempio una stima di un'analisi condotta dal MEF, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprio quest'anno nel 2023, che mostra ad esempio come un dipendente del settore privato nel 2070 avrà una pensione il cui rapporto tra la prima pensione ricevuta e l'ultimo reddito percepito è del 67,2%. Bene, se questa percentuale può rimanere un pochettino astratta, concretizzandola, ad esempio su uno stipendio di 2.000 euro al mese, questo significherà che la pensione percepita dal futuro pensionato sarà pari a 1.344 euro ed è per questo che bisogna intervenire e usare delle misure correttive per far sì che questo gap pensionistico venga ridotto e sia inalterato poi il potere di acquisto futuro del risparmiatore. Francesco, quindi considerato questo scenario, cosa fare? Quali sono gli strumenti adatti a disposizione del risparmiatore per pianificare serenamente la propria pensione? Considerato che il concetto della pianificazione, quando si parla delle nostre risorse personali, assume un'importanza ancora maggiore. È corretto e assume un'importanza ancora maggiore laddove l'orizzonte temporale sia ancora più lungo, quindi agendo per tempo si riesce veramente a fare la differenza. Con riferimento agli strumenti diciamo che non esiste un unico strumento in grado di colmare questo gap pensionistico. Esistono piuttosto strumenti di natura, un mix di strumenti, strumenti di natura previdenziale come ad esempio il fondo pensione, ma anche strumenti volti ad ottimizzare il risparmio e consentire di accumulare del denaro nel corso del tempo, come ad esempio il piano di accumulo di capitale, se però mantenuto per un orizzonte temporale lungo e finalizzato a creare proprio una pensione integrativa, una seconda pensione in alternativa a quella pubblica. E qui di seguito troviamo sintetizzate quelle che possono essere le soluzioni per colmare questo gap pensionistico rispetto ai redditi che il lavoratore percepiva. Lo strumento tuttavia ideale al fine di colmare questo gap è il fondo pensione. Quindi fondo pensione, ma che cos'è esattamente un fondo pensione? Quali sono i vantaggi di questo strumento, strumento che possiamo definire a tutti gli effetti strumento previdenziale? Il fondo pensione è uno strumento di risparmio che consente di accumulare nel tempo dei risparmi al fine di creare una pensione integrativa. Secondo questo meccanismo i risparmi accumulati da quello che definiamo come aderente e i risparmi possiamo definirli come contributi, vengono versati in un conto individuale e poi vengono investiti nei mercati finanziari per produrre dei rendimenti nel tempo. Bene, una volta raggiunti i requisiti per la pensione pubblica e con almeno 5 anni di partecipazione al fondo, l'aderente può andare a beneficiare di quelle che sono poi le somme che ha avversato e accumulato nel corso del tempo. Esistono tuttavia anche forme di anticipazione che consentono di beneficiare delle somme accumulate prima del raggiungimento dell'età pensionabile e che poi di fatto anche offrono una certa flessibilità al fondo pensione stesso. Oltre a ciò il fondo pensione ha anche altri grandi vantaggi. Il primo è quello di grandi vantaggi fiscali che si configurano nella deducibilità fiscale annua fino a 5.164 euro, sia per la propria posizione fiscale sia per quella di familiari fiscalmente a carico. In particolar modo si riesce così ad arrivare, a seconda della propria aliquota IRPEF, ad un beneficio fiscale annuo massimo di 2.220 euro che poi potranno essere recuperati direttamente in busta paga nel caso di dipendente privato oppure potranno essere colti come una minore forma di tassazione nel caso di lavoratore autonomo. Il secondo grande vantaggio è anche quello della possibilità di aderire al fondo pensione anche tramite il conferimento delle proprie quote di TFR e laddove vi sia anche un versamento individuale volontario, quindi minimo, ci può essere la possibilità anche di beneficiare di un versamento da parte del proprio datore di lavoro. Il fondo pensione quindi rappresenta uno, il principale ma non l'unico, strumento a disposizione per crearsi una pensione integrativa al fine di colmare il gap pensionistico derivante dalla prima pensione che riceveremo rispetto invece agli ultimi redditi di lavoro. Anche in questo caso, come visto per altri strumenti, l'orizzonte temporale è fondamentale perché prima si inizia a beneficiare del principale alleato che è il tempo e maggiori saranno i benefici sia di natura economica che di natura fiscale. Perfetto, grazie Francesco Pesaro, sei stato davvero molto chiaro su un aspetto così importante della vita di tutti noi perché comunque la previdenza, la pensione è un qualcosa che ci riguarda tutti in maniera trasversale. È stato l'ultimo appuntamento del 2023, ci rivediamo nel 2024 con La finanza è per tutti insieme a Banca UIDIBA. Buona serata a tutti voi.